Musica Lo scopo di questa manifestazione è di onorare la figura di un ragazzo, il mio ex paesano di Ciro e lo faccio con i bambini perché i bambini sono l'emblema della purezza e della naturalezza. Il mio amico Eugenio Grandinetti mi ha dato 16 anni fa l'onore di organizzarla e lo sto portando avanti ogni anno. È una bellissima manifestazione che si svolge solo in discussione con i bambini, quindi a livello ludico. Sono felicissimo di farlo e ringrazio Eugenio per la disponibilità che mi dà ogni anno e spero di continuare col proseguo degli anni.